Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi siamo ancora su Wootering Waves perché voglio parlarvi di in-lin. Però non voglio fare i soliti video dove vi spiegano build, robe eccetera eccetera. Voglio parlarvene in modo semplice perché ho visto diversi content creator in giro fare tutti gli stessi video, dire tutte le stesse cose e fare tutte le stesse cose. Quindi credo che sia giusto un po' diversificarsi. E quando uno vuole diversificarsi in che cosa lo può fare. Nella comunicazione, nel linguaggio e ovviamente in quello che fa vedere a schermo. Io voglio parlarvi oggi del personaggio di in-lin ma non voglio parlarvene in modo complicato perché capisco che il giocatore inesperto o il giocatore che magari non è abituato a determinati titoli possa entrare in confusione e nelle peggiori delle ipotesi quittare. Io non voglio che questo accada perché ovviamente il mio interesse è farvi partecipare al gioco e farvi partecipare alla community. Quindi voglio parlarvene in modo dettagliato ma al tempo stesso semplice. In modo tale che tutti quanti possiate capire come giocare al meglio e non vi frustriate o comunque sia non vi demoralizzate più di tanto nel capire o nel cercare di capire un personaggio simile. Anche perché in-lin è un ottimo personaggio che sicuramente avrete già sentito dire in giro essere un buon sub-DPS o comunque c'è chi la considera DPS. A mio avviso vanno bene entrambe le scelte. A parte il fatto che è una gnocca incredibile e quindi già si pulla per quello ma oltre questo ha degli altri motivi per essere pullata e non quelli che vedete a schermo. Vi posso garantire che questo personaggio può dare diverse soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda il roaming in mappa perché ovviamente girando per la mappa e affrontando nemici multipli lei è comunque molto molto versatile ed è molto buona da questo punto di vista perché fa comunque diversi danni aoe sia tramite la sua ulti che tramite appunto il suo attacco caricato che vedremo tra poco e quindi vi consente di giocare benissimo e vi consente appunto di giocare al meglio proprio quando effettua questi danni. Però come vi stavo dicendo prima perché solitamente viene consigliata o comunque viene prevalentemente indicata come sub-DPS? Semplicemente perché il lin tramite appunto il suo kit ha la capacità di incrementare o permettere ai vostri personaggi di tipo elettro di fare più danni. Quindi in questo caso lei va benissimo a braccetto con Calcaro che è a parte il mio personaggio preferito ma è anche il mio personaggio principale quindi di conseguenza vado a massimizzare la mia priorità verso Calcaro. Però vi posso dire appunto che anche come DPS in campo quindi come DPS fisso sul vostro campo di gioco lei è molto molto valida quindi diffidata anche da chi la obbliga come sub-DPS. Ma perché è così buona per Calcaro ma soprattutto perché è così buona in generale? Ovviamente come detto prima la OE sicuramente la fa da regina però ci sono anche dei contro fondamentalmente a questo personaggio è un personaggio che rende il meglio durante le sue rotazioni quindi la possibilità di fare entra ed esci e quindi avere la possibilità in un modo o nell'altro di giocare un po' alla Genshin cosa che a me sinceramente mi ha fatto proprio quittare Genshin dato che a differenza di Wootering dove il duello o il combattimento viene scandito comunque da una forte presenza di skill da parte del personaggio o comunque da parte del giocatore che fondamentalmente può parriare, può schivare può fare diciamo tante cose sul campo di battaglia il giocare con i personaggi che switchano, i personaggi che ruoteano mi fa ritornare in mente un po' Genshin ed è ripeto uno dei motivi per il quale ho quittato perché su Genshin non c'era una vera e propria battaglia come c'è su Wootering ma era semplicemente uno scambiarsi di PG fare skill, fare ultimate, reimpostare le skill, reimpostare le cose fare danni con reazioni elementali a caso e basta quindi non mi ha stimolato più dal punto di vista di combattimento a differenza di Wootering dove appunto la skill la fa da padrona quindi bisogna saper comunque combattere bisogna saper comunque gestire l'avversario sul campo di battaglia e questa è una cosa che io apprezzo tantissimo quindi anche lei purtroppo mi ha riportato in mente un po' Genshin proprio per questo discorso di swappare, di cambiare il personaggio di fare rotazioni eccetera eccetera però ovviamente ci sono anche dei pro ci sono molti pro per quanto riguarda personaggio come detto prima gli attacchi a Woot come detto prima anche la possibilità di poter restare in campo abbastanza a lungo perché riesce a gestire la situazione e ovviamente i suoi incredibili collegamenti con i personaggi elettrici quindi si può fare comunque un team elettrico con la possibilità di sfruttare il potenziale di Lean quindi va benissimo ma andiamo nel dettaglio andiamo nel dettaglio però in maniera semplice quindi cerchiamo di parlarne in modo semplice per quanto riguarda Lean ovviamente non guardate le statistiche che in realtà non fanno invidia a un main DPS ma sono stato molto fortunato con il role di artefatti anche se io comunque sia vi dico già adesso che la gioco come sub DPS e la consiglierò come sub DPS semplicemente per il fatto che Calcaro è il mio personaggio preferito sono main Calcaro e quindi voglio assolutamente sfruttare lui il più possibile e non lei senza nulla togliere al fatto che sia un personaggio incredibile per quanto riguarda le armi partiamo subito togliamoci il dente ovviamente la sua arma è quella più consigliata è quella migliore però io personalmente parlando la gioco con l'Augment l'Augment che mi consente di avere comunque Crit Rate come substats che non è affatto male a differenza di Energy Regen che potrebbe essere un'alternativa se la giocate come support io preferisco che lei sia leggermente più offensiva riesca comunque a fare anche un po' di danno quando entra in campo e non solo caricare e fare le rotazioni quindi di conseguenza che cosa succede? che quest'arma ogni qualvolta io effettuo la mia Ulti quindi la Resonance Liberation aumenta il mio attacco e questa è una cosa positiva perché posso fare la Ulti e poi successivamente fare l'Avi Attack una volta caricata la mia Resonance Energy comunque la mia Resonance Skill e avere quindi la possibilità di fare più danni quindi è un'ottima combo è un ottimo collegamento soprattutto col fatto che poi il personaggio una volta scaricati questi attacchi uscirà dal campo di battaglia e farà entrare Calcaro che poi completerà il lavoro però prima di passare a questo tecnicismo a questa strategia un po' più tecnica parliamo di ciò che effettivamente la rende così importante e di ciò che la rende così forte partendo ovviamente dal diciamo dal chiamiamolo in questo caso sì, dalla Otro Skill che è fondamentalmente ciò che la caratterizza all'interno del gioco infatti il personaggio che subentra subito dopo di lei o in questo caso il personaggio più vicino nel team eccetera eccetera prende un potenziamento di danni elettrici del 20% e l'amplificazione dei danni della sua ulti del 25% per 14 secondi fino a quando appunto In-Lin viene tolta dal campo quindi che cosa vuol dire? che nel momento in cui lei esce dal campo di battaglia aumenta il danno elettrico e la ulti quindi ecco perché lei è importante per Calcaro un'altra cosa su cui io cerco di premere tanto è il spiegare il perché delle determinate cose ho visto video in giro dove gente appunto parlava del personaggio e diceva dovete fare questo dovete fare questo il personaggio è forte perché fa così eccetera eccetera senza però spiegare il perché delle cose io sono dell'idea che bisogna spiegare il perché una cosa è buona cioè se io vi dico questa pizza è buona non vi posso dire questa pizza è buona solo perché lo dico io vi devo dire questa pizza è buona perché magari l'impasto è fatto bene la mozzarella è condita bene il pomodoro è fatto bene eccetera eccetera quindi bisogna comunque analizzare i vari ingredienti per dire se è un qualcosa è buono e i vari ingredienti di In-Lin sono questi partendo ovviamente dalla sua otro skill che quindi vi consente appunto di già avere una base e farvi capire il perché lei sia così importante per Calcaro o per tutti i personaggi elettrici proprio perché le consente di incrementarne i danni ma oltre a questo la cosa su cui personalmente cerco di premere volentieri su In-Lin oltre a... no vabbè lasciamo perdere sono sicuramente il Forte Circuit e la Resonance Liberation Forte Circuit e Resonance Liberation sono importanti perché sono comunque caratterizzati da attacchi Aoe fondamentalmente la Resonance Liberation è un attacco Aoe quindi colpisce praticamente il maggior numero di persone e il Forte Circuit vi permetterà di fare più danni a determinate persone perché? perché il Forte Circuit consente al nostro personaggio di In-Lin di caricare ovviamente la barra risonanza che ormai sapete benissimo che cos'è e una volta caricata questa barra risonanza che qui viene chiamata appunto judgment sono... vengono chiamati appunto judgment points quindi la sua barra risonanza fondamentalmente vengono chiamate judgment points una volta accumulata tutta la barra può essere scaricata tenendo premuto il tasto quadrato o comunque il tasto sinistro del mouse per fare un attacco pesante questo attacco pesante praticamente non solo colpisce tutti i nemici che avete ovviamente attorno ma li marchia però fate attenzione perché esistono due marchi che la nostra In-Lin può infliggere ai nostri avversari il primo marchio si chiama Sinners Mark ovvero il marchio del peccatore che può essere dato ad ogni personaggio o comunque può essere dato ad ogni nemico tramite attacchi normali attacchi risonanza e Resonance Liberation quindi tutti gli attacchi di In-Lin comunque sia marchiano i nemici quindi il vostro obiettivo è quello di marchiare il più possibile più nemici e per marchiare più nemici ovviamente si utilizza la Resonance Skill la Resonance Skill che vi consente comunque di marchiare facilmente più persone oppure utilizzare l'attacco di base per colpire quindi girare attorno, colpire tutti i vostri avversari e marchiarli una volta marchiati con il Sinners Mark ovviamente anche la Resonance Liberation li marchia quindi perché è importante il collegamento Resonance Liberation e Forte Circuit? semplicemente perché la Resonance Liberation essendo un attacco AOE vi consente di marchiare già praticamente tutti e poi sfruttare subito il potenziale di In-Lin per rimarchiare successivamente i vostri avversari e farla uscire dal campo perché questa è la meccanica principale di In-Lin marchiare e poi uscire quindi marchiare prima con il Sinners Mark marchiare successivamente con il Punishment Mark e farla uscire punto questo è ciò che vi interessa sapere di lei però come si fa appunto a marchiare? il primo marchio come vi ho detto prima si può fare con tutti gli attacchi quindi attacco base, attacco Resonance e Resonance Liberation quindi basta che voi colpiate il vostro avversario lo marchierete il secondo marchio invece si effettua tramite la barra caricata ovviamente e il tasto premuto di quadrato o comunque del tasto sinistro perché dopo l'attacco AOE che ovviamente vi permetterà di colpire tutti gli avversari infliggerete questo Punishment Mark il Punishment Mark è importante perché ogni avversario che è colpito praticamente da questo marchio subirà dei danni elettrici ogni volta che verrà colpito per circa 18 secondi sì c'è scritto per 18 secondi quindi in questi 18 secondi voi avrete la possibilità di colpire un avversario e far cadere praticamente dei fulmini su tutti quanti gli avversari marchiati e questa è una cosa fortissima perché appunto vi incrementa la possibilità di fare danno e soprattutto vi dà la possibilità di fare più danni a più nemici contemporaneamente questo marchio ovvero il Punishment non svanisce se il Lean esce dal campo invece dovete fare molta attenzione se non marchiate per bene i vostri nemici e sostituite il Lean perché il Sinners Mark ovvero il primo marchio se il Lean esce dal campo viene rimosso quindi non vi servirà più a nulla il Sinners Mark vi serve proprio per marchiare successivamente tutti quanti gli altri quindi fate attenzione quando fate questo giochetto una volta che avrete ovviamente segnato tutti i vostri avversari potete uscire dal campo e permettere al vostro successivo DPS di fare tutto il lavoro quindi questo è il funzionamento principale di Lean se utilizzata come sub DPS se volete utilizzarla come main DPS vi consiglio ovviamente di incrementare anche l'attacco base perché ovviamente dovrete attaccare il vostro avversario io personalmente non sono un fan dei personaggi ranged quindi coloro che attaccano a distanza quindi per questo utilizzo lei come sub DPS proprio perché anche feedback alla mano preferisco i personaggi che combattano corpo a corpo e quindi calcaro per me è il feedback perfetto per poter giocare Wootering e ovviamente Lean è un perfetto supporto che mi consente di essere più forte e che mi consente di essere più incisivo all'interno della battaglia per quanto riguarda invece le build perché diciamo che il funzionamento di Lean è questo quindi dovete mettervi in testa che Lean deve in un modo o nell'altro se utilizzata come sub DPS entrare in campo, marchiare e poi uscire punto se invece la giocate come main DPS ovviamente attaccate, marchiate, fate la ulti, fate più danni fate rotazioni magari con altri personaggi che vi consentono comunque di sfruttare il momento di fare degli attacchi particolari eccetera eccetera quindi cercate un po' di decidere effettivamente quello che volete voi una buona sinergia di Lean effettivamente come main DPS può essere sfruttata insieme a Yuan Wu che praticamente anche lui con la sua ulti mette praticamente una sorta di campo elettromagnetico attorno a una determinata area e all'interno di quella determinata area potrete fare più danni quindi ha una sorta di funzionamento simile anche se ovviamente più debole rispetto a quello di Lean però può essere comunque una buona soluzione se lo volete giocare come main DPS per quanto riguarda Lean invece c'è anche da parlare delle build delle eco che vanno equipaggiate ovviamente i set consigliati per il personaggio di Lean sono due il Void Thunder perché giustamente il personaggio è un personaggio elettrico quindi farà danni elettrici quindi è giusto potenziare i danni elettrici oppure il Moonlight Clouds che è fondamentalmente quello che utilizzo io e perché io utilizzo questo set di artefatti semplicemente perché il Moonlight Clouds quando abbiamo una sinergia di 5 pezzi quindi abbiamo tutti i pezzi dello stesso set ci consente di incrementare l'attacco del nostro resonator o comunque del personaggio che subentra a lei e quindi capite benissimo che già la sua passiva o comunque la sua otro skill stacca con quella del set quindi abbiamo attacco aumentato danni elettrici aumentati e danni da ultimate aumentati nel momento in cui lei abbandona il campo e questo non fa altro che migliorare sensibilmente la mia percezione di lei come sub DPS quindi il set Moonlight Clouds per me sinceramente è perfetto perché lei switcha, entra Calcaro gli dà un sacco di potenziamento e quindi Calcaro può fare veramente il devasto e può letteralmente fare danni a profusione che è la cosa che mi interessa di più però per lei va bene anche il set Void Thunder se volete utilizzarla come DPS principale ovviamente se volete utilizzarla come DPS principale è ovvio che l'Eco dal costo 4 debba avere Crit Rate, Crit Damage ma anche come sub DPS ovviamente va bene Crit Rate, Crit Damage poi i due Eco da 3 Electro Damage se volete utilizzarla come Main DPS io invece ho optato per una via di mezzo essendo che comunque voglio farle fare dei danni ma al tempo stesso voglio permetterle di uscire quasi subito dal campo ho messo un Eco costo 3 con Electro Thunder e l'altro Eco di costo 3 con Energy Regen in modo tale da appunto poterla non solo ricaricare più in fretta ma anche farle fare qualche danno in più e quindi di conseguenza riuscire ad incastrare le due cose soprattutto se siete fortunati e rollate Energy Regen nelle substats è ancora meglio riuscite ad avere un risultato ancora meglio rispetto a quello che ho io e poi ovviamente i due da 1 che ovviamente saranno sempre attacco ovviamente in tante occasioni saranno sempre attacco vi daranno la possibilità di fare i danni in più non credo che ci sia altro che debba dirvi di Lean in modo così specifico, in modo così particolare vi farò vedere uno showcase proprio per farvi capire come funziona esattamente in Lean vi metterò le immagini ovviamente a schermo durante il combattimento eccetera eccetera spero di riuscire perché il mio calcaro è buildato abbastanza bene quindi scioglie tutto quello che si muove quindi spero di riuscire a rientrare con i danni e fare una cosa un po' più carina, un po' più particolare comunque detto questo non credo che ci sia altro da dire io vi lascio un piccolo showcase sul come utilizzo io in Lean e spero che questo video possa esservi stato utile fatemi sapere ovviamente se ci sono cose in più che volete sapere in futuro o in generale che volete sapere del personaggio sotto nei commenti e state tranquilli che vi risponderò al 100% mi trovate ovviamente ogni sera anche in live su Twitch quindi se volete passare a fare un saluto io vi aspetto detto ciò ragazzi vi lascio con il mio showcase e niente ci becchiamo alla prossima e non ci becchiamo alla prossima e non ci becchiamo alla prossima